Siamo contenti tutti di attraversare un periodo così positivo, è stata dura all'inizio passare un momento così buio e difficile per noi, abbiamo cambiato all'annatore, nello spogliatoio magari c'erano un po' di problemi, però adesso nessuno vuole tornare in quella situazione lì. Dobbiamo continuare così, proprio per vivere questi momenti il più a lungo possibile, perché poi quando le cose vanno male, come sono andate male, anche lo spogliatoio si vive in maniera diversa, quindi c'è voglia di fare bene. Ci sono state alcune scelte che la società ha preso, sicuramente per il bene della squadra, perché per il bene della squadra e dei ragazzi che sono andati via, ma ritorneranno il prossimo anno, quindi sono sicuro che si inseriranno bene in questo spogliatoio, anche perché il momento lo permette, siamo in un momento positivo, quindi vedranno uno spogliatoio sereno, quindi si ambienteranno in fretta. È importante avere quella mentalità e continuare tutti con lo stesso obiettivo in testa.